buongiorno amici di vai elettrico e ben trovati l'attesa è stata lunga ma siamo finalmente a bordo di volkswagen id 7 berlina di quasi 5 metri di lunghezza 5 posti comodi un motore da 210 kg 285 cavalli una batteria da 77 kilowattora netti utilizzabili e davanti a noi un percorso che da riva del garda in provincia di trento ci porterà attraverso italia austria e germania fino a monaco di baviera percorso pensato per testare le caratteristiche di quest'auto in termini di consumi di conseguenza di autonomia ma visto che è una prima presa di contatto un po particolare visto che avremo un po più di tempo a disposizione vi darò anche le mie prime impressioni riguardo la guidabilità autostradale e a livello di comfort di un'auto che è pensata proprio per le lunghe lunghissime percorrenze andiamo e vi mostro innanzitutto la plancia che è radicalmente cambiato rispetto a quello che siamo stati abituati a trovare a bordo delle id fino a questo momento vedete il cruscotto completamente integrato all'interno della plancia stessa negato dire all'interno della plancia stessa e un display che non la nostra interfaccia con la tecnologia di bordo dell'auto anche questo completamente rivisto nel suo funzionamento vedete ad esempio la regolazione del clima è diventata luminosa nella parte inferiore dello schermo e ma soprattutto nella logica di funzionamento in particolare del navigatore vedete che ho impostato come destinazione monaco 403 chilometri a destinazione in particolare ho impostato come destinazione il punto in cui andremo a ricaricare vicino all'albergo diciamo nostra destinazione di questo viaggio 404 403 chilometri da percorrere il sistema ha calcolato una sosta brevissima di 5 minuti presso questa area di servizio poco prima dell'arrivo in realtà poi vedremo come andrà il viaggio quanto consumeremo effettivamente e se avremo necessità di fermarci qui o da qualche altra parte o magari chissà di non fermarci proprio vi mostro prima di partire qualcosa che ho trovato molto molto interessante dal punto di vista della gestione delle percorrenze vedete possibile nelle impostazioni decidere l'autonomia residua a destinazione che in questo caso io ho impostato al minimo 10 chilometri di autonomia e l'autonomia residua alla sosta per la ricarica regolabile anche questa su più chilometri oltre ad esempio alla preferenza per il circuito we charge molto molto interessante anche questa possibilità finalmente di precondizionare la batteria sia manualmente sia utilizzando ovviamente il navigatore in questo caso l'auto va a precondizionare in modo automatico sulla base del tempo necessario per raggiungere il luogo di ricarica tempo di riscaldamento che l'auto va anche a indicare manualmente quindi ci dice guarda che ci vogliono 20 minuti per raggiungere la temperatura ottimale e ricaricherai a questa potenza se non precondizioni ricaricherai a una potenza ovviamente inferiore sono le 13.07 mettiamoci in viaggio perché il viaggio oggi è abbastanza lungo temperatura esterna di 11 gradi in questo momento modalità di guida comfort temperatura impostata all'interno di 20 gradi partiamo autostrada a 22 naturalmente direzione nord la temperatura è scesa a 5 gradi centigradi cruise control adattivo impostato a 130 chilometri orari su quest'auto è stato fatto un attento studio dell'aerodinamica coefficiente di penetrazione pari a 0 23 soprattutto una sezione frontale di 2,46 metri quadrati un'attenzione particolare per l'efficienza e questa cosa mi fa sempre ragionare su quelle che possono essere le caratteristiche di progettazione di questi veicoli ovvero si cerca a mio avviso sempre di più non tanto la massima autonomia possibile quanto correttamente un equilibrio tra ore di utilizzo e capacità della batteria a seconda ovviamente di quello che può essere l'utilizzo medio dell'auto in questo caso siamo a bordo di un'auto che si muove si muoverà prevalentemente in autostrada e quindi chiaramente bisogna trovare il giusto compromesso tra autonomia ore di guida sostenibili e possibilità di ricarica in termini di potenza e di conseguenza di minuti sono curioso di capire quanto si sono spinti in là i tecnici volkswagen e anche ovviamente mi interrogo su quanto può aver senso andare oltre quindi migliorare ulteriormente la capacità della batteria quanto piuttosto magari ridurne il peso e le dimensioni voi che ne pensate un'ora e mezza dalla partenza quasi 150 i chilometri percorsi fino a questo momento come si viaggia a bordo di quest'auto il comfort è altissimo forse mi sarei aspettato qualcosina in più in termini di upgrade se confronto questa id7 con le sorelle id4 ed5 però comunque un miglioramento c'è stato miglioramento invece molto più impattante dal punto di vista della qualità dei materiali di bordo ad esempio di alcune chicche come i sedili non solo riscaldati ma massaggianti perché anche questo conta in un viaggio nel quale si resta davvero tanto tanto tempo alla guida siamo quindi in austria 290 chilometri percorsi fino a questo momento 110 sono quindi chilometri che ci separano dalla nostra meta ho preso una lunga telefonata mi sono completamente dimenticato e disinteressato di quella che era la programmazione del viaggio stesso se ricordate all'inizio del viaggio prima di partire il sistema di navigazione ha previsto una sosta durante il percorso poco fa sono andato a ricontrollare dove fosse nel sistema di navigazione e mi sono accorto con piacere che questa sosta non è più prevista quindi il sistema dice che arriveremo a destinazione direttamente senza dover ricaricare questo è importante in viaggi di questo tipo è importante che l'auto sia in grado di programmare correttamente il viaggio sia in grado di fare tutti i calcoli necessari senza che a farli debba essere chi guida che potrebbe non avere semplicemente voglia oppure non essere proprio in grado di farli quindi bene brava volkswagen siamo nella direzione giusta pioggia molto molto fitta qua in germania la stanchezza inizia a farsi sentire la mia perché quella della batteria no in realtà la batteria in questo momento mi ha indicato di essere scesa al di sotto del 20 per cento mancano più o meno una sessantina di chilometri a destinazione ma potremmo percorrerne molti molti di più vediamo come finirà questo viaggio circa 50 i chilometri che mancano a destinazione vedete che l'auto ci sta indicando in questo momento che se dovessimo fermarci in questo preciso istante l'auto si ricaricherebbe alla potenza non trascurabile di 126 kilowatt in realtà però è possibile arrivare ad un picco di 164 tramite il preriscaldamento avendo noi impostato come destinazione la stazione Ionity di Garching che è davvero molto molto vicina al mio hotel chiaramente questo tipo di ottimizzazione avverrà in modo del tutto automatico e trasparente per noi pochissimi chilometri per noi a destinazione come potete vedere è iniziato anche a nevicare nel frattempo la batteria si è riscaldata alla temperatura adatta per una ricarica alla massima potenza accettata vediamo se effettivamente succederà proprio questo presso la stazione Ionity sono le 17.38 eccoci arrivati a destinazione amici andiamo a vedere quanto abbiamo consumato e subito dopo quanto rapidamente questa batteria riuscirà a ricaricarsi 3% di batteria il nostro SOC all'arrivo andiamo subito a vedere la sintesi del nostro viaggio 4 ore e mezza di percorrenza 401 chilometri percorsi la nostra media è stata di 17,8 chiedo scusa kilowattora per 100 chilometri 88 chilometri orari la nostra velocità media ora andiamo a ricaricare l'auto e vediamo anche la performance di ricarica dimenticavo per correttezza vi mostro anche visto che questa è la statistica dalla partenza la statistica dalla ricarica che in realtà è sostanzialmente la stessa c'è un piccolissimo scarto ma giusto per mostrarvi che effettivamente non abbiamo mai ricaricato durante il percorso la ricarica è partita vedete che lo stato di carica della batteria come indicato è del 3% stiamo già ricaricando a 144, 150, 160, 176, quasi 180 kilowatt di potenza nel frattempo vi mostro la stazione nella sua interezza vedete che ha iniziato anche a nevicare abbiamo due stazioni di ricarica di Alpitronic e poi a seguire le classiche probabilmente piazzate qua in prima istanza fino a pochi minuti fa c'era anche un autobus che ricaricava stiamo ricaricando ben oltre la capacità nominale, la potenza nominale, chiedo scusa di ricarica della nostra Volkswagen ID.7, quasi 185 kilowatt di potenza perlomeno in questa prima fase ricordo che avevamo precondizionato la batteria 10% di batteria ricaricato in poco meno di 3 minuti direi che è più che sufficiente per i miei spostamenti locali andiamo ed eccoci finalmente a fine giornata tra poco si va a dormire volevo solo brevemente tirare le somme di questa giornata a bordo di Volkswagen ID.7 viaggio di oltre 400 chilometri su singola carica nonostante tanta autostrada, quasi tutta autostrada nonostante il grosso dislivello del passo del Brenner nonostante le basse temperature, la pioggia, la neve quindi a mio avviso un'ottima performance, un ottimo equilibrio quell'equilibrio di cui parlavamo durante il viaggio tra capacità della batteria e consumi di un'auto che nasce davvero come auto autostradale come auto dalle lunghe percorrenze e visto che di questo si tratta, visto che chi utilizzerà quest'auto molto probabilmente la utilizzerà su lunghe tratte autostradali quindi molto spesso lontano da casa ha voluto simulare anche una situazione nella quale non si abbia a disposizione la possibilità di ricaricare come io consiglio spesso durante la notte quindi quando l'auto non sarebbe comunque in utilizzo tant'è che al momento la mia ID.7 è parcheggiata all'esterno non in carica e domani prima di rientrare a Riva del Garda provvederò alla ricarica dell'auto prime impressioni quindi molto positive su Volkswagen ID.7 e sono curioso di provarla ancora più estensivamente magari su altri aspetti che fino ad ora non abbiamo ancora toccato quindi state sintonizzati, alla prossima!